Salve a tutti e benvenuti in questo video in cui vi illustrerò i principali trend e le principali previsioni di mercato per il 2024. Queste previsioni, questi trend, provengono tutti da fonti che sono disponibili gratuitamente online, però io ho deciso di cercare e riaccorparle tutte all'interno di questo video in modo da risparmiarvi il tempo della ricerca, anche se comunque le potrete consultare autonomamente perché vi metterò i link a queste risorse nella descrizione del video. Inoltre, oltre a trovarle, queste risorse sono anche selezionate, quindi ho tolto quelle che secondo me non erano molto affidabili, quindi quelle che vedrete qui sono fonti 100% affidabili. Inoltre, molte di queste risorse sono in inglese, quindi nel caso non fosse molto pratici con l'inglese, guardando questo video potrete anche usufruire di questi contenuti in italiano perché io ovviamente ve li spiegherò, ve li descriverò in lingua italiana. E infine vi darò anche dei consigli pratici di marketing per applicare delle idee basate su questi trend direttamente sul vostro business. Quindi, tuffiamoci nello schermo all'interno del quale vi farò vedere direttamente queste risorse e buona visione. Allora, iniziamo subito analizzando Think with Google, che è un blog di Google, appunto. Google dispone di moltissimi dati, come tutti noi sappiamo. E, insomma, Think with Google è una sorta di blog di Google in cui ci dà delle informazioni, ci dà dei consigli di marketing. Vediamo un po' le loro previsioni per il 2024. Allora, si inizia subito con una notizia non molto bella perché, a detto le loro previsioni, continuerà l'incertezza economica che ha caratterizzato questi ultimi anni. Tuttavia, secondo loro, c'è possibilità di crescita, di sperimentazione, di adattamento e, in particolare, loro pongono l'accento sulla privacy, sul discorso della privacy. Infatti, c'è sempre più sensibilità, dal punto di vista dei consumatori, su come vengono utilizzati i loro dati. Quindi, soprattutto se voi avete un business in cui vendete un prodotto, un servizio digitale, in cui magari le persone devono farsi un account, le persone devono darvi i loro dati personali, Occhio, questo è per voi. Secondo questo studio, solo il 3% dei consumatori senti di avere il controllo dei propri dati online e questo fa venire meno la fiducia. Ovviamente sappiamo, nel marketing, nel business, avere la fiducia dei propri consumatori, dei potenziali clienti, è fondamentale che, se non ti fidi, non compri. Quindi, detto proprio in poche parole, il 43% delle persone afferma che abbandonerebbe il brand, il loro brand preferito, a vantaggio di un'alternativa che fornisce una buona esperienza rispetto alla privacy. Che cosa vuol dire? Appunto, se riuscite a mostrare in modo anche trasparente che voi state attenti alla privacy, alla gestione dei dati, questo sicuramente sarà un ottimo beneficio per voi, perché le persone, appunto, sono sempre più sensibili a questo tema. Vediamo, andiamo avanti, vediamo l'intervista alla vicepresidente di marketing di Google, Francia, Italia e mercati emergenti. Ovviamente lei sottolinea il fatto che ci troviamo in uno stato di costante normalità. Ovviamente, il giorno d'oggi tutto è molto instabile a livello politico, a livello economico. Ci sono anche continue novità tecnologiche, lo vedremo molto presto. Quindi, cosa vuol dire? Panorama incerto, continua evoluzione, turbolenza, instabilità. E quindi, però, bisogna essere bravi a reagire più rapidamente a qualsiasi situazione che possa cambiare, come il contesto economico in evoluzione, ad esempio. Le nuove esigenze di consumatori suggerisce di adottare un atteggiamento più flessibile, quindi adattarsi alla svelta del cambiamento. Quindi, piuttosto che fare un piano quinquennale di crescita rigido, lei suggerisce di mettere in conto di fare tanti cambi di rotta, magari non molto grossi, minimi, ma continui. Quindi, flessibilità, parola d'ordine per questo 2024. Arriviamo a menzionare per la prima volta, non sarà l'ultima però, l'intelligenza artificiale. Come sapete tutti, è il grande tema dei giorni nostri. Ok, qui vado veloce perché poi lo riprenderemo più avanti. Qui anche lei mette l'accento sulla privacy, ok? Quindi, bisognerà stare attenti all'uso che verrà fatto dei dati che vengono dati in passo all'intelligenza artificiale, perché bisogna essere trasparenti, comunicare chiaramente come i dati degli utenti alimentano gli strumenti IA. Ancora una volta, consumatori sempre più attenti all'utilizzo dei dati. Sostenibilità, anche questo è un trend che c'era già negli anni scorsi. I grandi brand e le maggiori genzie si sono impegnati molto rispetto agli obiettivi net zero, cioè zero emissioni. Nel 2024 questo trend sarà ancora più in crescita. Ci saranno anche nuovi obblighi, perché ci sono in vista nuove direttive a livello europeo per essere a norma per quanto riguarda le emissioni. Quindi, anche qui, comunque i consumatori sono sempre più attenti alla sostenibilità dei brand. Quindi, se voi già state attuando nella vostra attività delle politiche di sostenibilità, di riduzione dell'impatto ambientale, continuate su questa strada, comunicatelo anche alla vostra strategia di marketing, mettete l'accento sulla sostenibilità, però, purché sia vera, purché non sia falsa, altrimenti in quel caso solo greenwashing, e a giorno d'oggi i consumatori se ne accorgono subito. Quindi, puntate sulla sostenibilità, ma anche sulla trasparenza. Andiamo adesso ad un altro articolo sempre di Think with Google, molto rapidamente. Qui ci menziona ancora lì l'intelligenza artificiale, però ci fa anche notare che, appunto, sempre tornando al discorso della privacy e della gestione dei dati, ci sarà la graduale dismissione delle tecnologie tradizionali, come i cookie di terze parti. Infatti, Google, Google Chrome, ritirerà piano piano nel corso dell'anno e i cookie di terze parti, che, come sapete, sono quelli che permettono di tracciare il traffico ad un sito. Quindi bisognerà un po' rivedere alcune strategie di marketing online, perché sarà più difficile tracciare i dati. Secondo loro, chi pianifica per tempo ne trarrà vantaggio, quindi dobbiamo definire una visione di marketing che rispetti la privacy degli utenti e anche ripensare a un'offerta del sito che faccia trovare soluzioni alternative, perché, appunto, i cookie di terze parti verranno via via rimossi. Quindi tenete conto anche di questo fattore. Adesso andiamo ad un altro portale di cui io mi fido molto, che mi piace molto, che è Exploding Topics, dove praticamente analizzano anche le ricerche, le tendenze di tutti gli ultimi anni e sulla base di quelli fanno delle proiezioni sul futuro, sui prossimi anni. Benissimo, la I generativa migliorerà, potenzierà la produttività. Che cos'è l'intelligenza artificiale generativa nel caso non lo sapesse? È quella che permette di generare dei testi, delle immagini, anche dei video, in maniera automatica, diciamo, generata non da un essere umano, ma di un'intelligenza artificiale sulla base di alcuni prompt, alcune indicazioni che vengono date dall'essere umano. Questa tecnologia sarà sicuramente in grande espansione l'anno prossimo e anche quelli dopo e sicuramente velocizzerà il lavoro e quindi aumenterà la produttività. Secondo il loro studio, l'intelligenza artificiale generativa costituirà il 30% di tutto il mercato dell'AI e varrà entro il 2025 all'incirca 60 miliardi di dollari. Il 70% dei consumatori sostengono che la maggior parte dei business utilizzeranno presto l'intelligenza artificiale per migliorare anche la customer experience, ovvero l'esperienza del consumatore. Anche questo ci ritorneremo più avanti, perché, come fonderemo, è possibile utilizzare l'intelligenza artificiale anche per il servizio clienti. Inoltre, sarà anche molto importante per quanto riguarda lo sviluppo di software, sempre si sta parlando della generativa AI, perché addirittura può produrre dati sintetici. I dati che vengono dati in passo all'intelligenza artificiale per svilupparla, perdonatemi se non uso un gergo tecnico, ma non sono proprio del mestiere, comunque ci siamo capiti, quei dati che vengono dati per addestrarla verranno generati direttamente dall'intelligenza artificiale stessa. Infatti, le ricerche per synthetic data, dati sintetici, sono aumentate nel 733% negli ultimi 5 anni. Veramente un innalzamento significativo. Poi, come vedremo, continuerà la crescita dell'e-commerce. Durante la pandemia e anche dopo sono esplosi, sono definitivamente esplosi l'e-commerce, il commercio online, sempre più persone acquistano da internet. Dopo la pandemia è, ovviamente, come si poteva prevedere, è rallentata la crescita dell'e-commerce, però comunque cresce lentamente, ma cresce, sta ancora crescendo. Nel 2023, le vendite totali, il valore delle vendite totali per e-commerce a livello mondiale era di circa 6,3 trilioni di dollari, le cifre astronomiche, ma si aspetta che cresca fino a 8,1 trilioni entro il 2026. Alcune specifiche categorie, tra l'altro, di prodotti, beneficeranno particolarmente dell'e-commerce, in particolare, ad esempio, elettrodomestici e arredamento oggetti per la casa. Bene, un'altra tendenza che si conferma che era già in crescita e che lo sarà ancora di più nel 2024 è quella di investire sui social media. Quindi, se non avete ancora una presenza sui social media con il vostro business, o se ce l'avete ma, insomma, li state gestendo in maniera improvvisata o comunque non professionale, non aspettate altro. Iniziate ad investire anche sui social networks, sulle community online. Se non sapete come fare, non sapete da dove iniziare, potete rivolgervi a me, che sono un esperto di digital marketing e di social media marketing. Potete contattarmi nel link in descrizione per richiedermi una consulenza 100% gratuita. Questo studio ci sottolinea che l'importanza di social media nel marketing continuerà a crescere nel 2025. Più della metà dei responsabili di marketing hanno dichiarato che la spesa per le pubblicità, le famose sponsorizzate sui social, aumenterà nei prossimi anni. Un altro studio ci riporta che gli spot, diciamo, le pubblicità su TikTok, vengono considerate 23% più memorabili, quindi più facili da ricordare di quelle in tv, e 13% più memorabili di quelle di altri tipi di contenuti video. Quindi TikTok è un'altra piattaforma da tenere d'occhio. Circa l'80% delle persone intervistate in questo studio dichiarano che i gruppi più importanti a cui si sentono di appartenere sono online, quindi community online, gruppi Facebook, gruppi Telegram, tantissimi tipi di gruppi, gruppi Discord, quelli sono una cosa su cui puntare nel 2024. Inoltre c'è anche uno shift, c'è stato negli ultimi anni, e questa è una tendenza che continuerà, a collaborare con piccoli influencer, cioè influencer che magari hanno piccole comunità, piccole community che li seguono, ma sono più autentici, più genuini. Le persone si fidano più di loro, magari, dei top influencer, di quelli con milioni, centinaia di migliaia, milioni di follower. Anche questo è una tendenza da tenere d'occhio. E perché questi micro influencer hanno il 60% engagement rate più alto, engagement rate sarebbe la percentuale di quelli che, avendo visto il loro contenuto, commentano, lasciano like, condividono. Ancora una volta qui ci viene mostrato il tema della sostenibilità. La metà dei consumatori degli Stati Uniti sostengono che loro pagherebbero di più per prodotti più sostenibili. E invece, a livello globale, 85% delle persone intervistate hanno cambiato le loro abitudini di acquisto per diventare più sostenibili negli ultimi 5 anni. Quindi, ancora una volta, occhio alla sostenibilità. Altro trend, sempre in relazione a quello della sostenibilità, è quello dell'economia circolare. Che cosa vuol dire? Economia circolare vuol dire che i prodotti si tendono a riciclarli, piuttosto che a buttarli una volta finiti e comprare di nuovi. Questa, infatti, è un'altra tendenza che vedremo più avanti del do-it-yourself. Infatti, anche sui social, ci sono moltissimi contenuti di influencer che mostrano come riciclare, come farti in casa, magari come ricucire la maglia. E questo è sicuramente in linea, sia per motivi appunto di sensibilità alla sostenibilità, all'ambiente, ma secondo me anche perché, insomma, essendo, come abbiamo detto subito all'inizio, un periodo questo di contrazione economica, la gente preferisce limitare i consumi e riciclare quello che è già. Se una volta l'economia lineare era quella in cui i materiali venivano utilizzati e poi buttati via come spazzatura, waste, nell'economia circolare invece si concentra su riciclare i prodotti. Qui viene riportato l'esempio di questa T-Meal, che è un business di moda inglese. Praticamente nel loro e-commerce loro ti vendono delle magliette sulle quali c'è un QR code e attraverso il quale tu puoi scansionare e poi rinviare la maglietta una volta che è vecchia e loro riorganizzano la produzione utilizzando appunto questi materiali, riciclandoli. Anche questo potrebbe essere una cosa da implementare se il vostro business ve lo consente. Altro trend, quello delle tecnologie immersive, virtual reality, realtà virtuale, realtà aumentata, quindi praticamente tipo i visori che vi permettono di vedere un prodotto in 3D, di ruotarlo direttamente dal sito, in questo caso l'ha fatto Pinterest. Però potrebbe esserci anche un ritorno in auge del metaverso, il metaverso infatti alcuni brand stanno iniziando ad avere una presenza nel metaverso, ad esempio Duolingo, che ha creato questo loro simpatico mascotte, adesso è presente anche nel metaverso, inoltre si prevede che i lavoratori, le persone lavoreranno proprio attraverso il metaverso, questo si rilaccia appunto al discorso della realtà aumentata. Magari per implementare questo nel vostro business ci vogliono delle grosse spese, però tenete di conto che questo è un trend su cui dovreste iniziare già un po' a studiarci, quella della realtà aumentata, della realtà virtuale. Poi, migliore esperienza ai clienti attraverso la AI, intelligenza artificiale, e con minori costi, il 70% delle organizzazioni dichiarano che il customer service, il servizio ai clienti è molto importante per la performance del loro business e appunto il 63% di loro dà una priorità appunto alla customer experience, quindi se fornite una buona esperienza al cliente sia in fase di acquisto sia in fase di assistenza successivamente all'acquisto, questo avrà un enorme impatto sul vostro business, un impatto positivo e la tendenza è quella di implementare a implementare tecnologie AI, tecnologie con intelligenza artificiale appunto per l'assistenza ai clienti. Il 65% dei compiti possono essere appunto automatizzati attraverso l'AI, secondo questo report. Le aziende che usano l'intelligenza artificiale vedono un miglioramento della soddisfazione dei clienti del 3,5% rispetto a quelle che non usano questa tecnologia. La tendenza è quella di investire sempre più pesantemente in social media, quindi contattatemi, e tecnologie, soluzioni tecnologiche, e tuttavia bisognerà sempre guardare, stare con un occhio al sentiment dei consumatori per quanto riguarda l'ambiente, la sostenibilità, quindi consumatori sempre più sensibili ai temi ambientali che influiscono anche sulle loro decisioni di acquisto e quindi di conseguenza i business devono fare attettanti i brand che si andavano un po' allineare a questa nuova visione. Molto brevemente andiamo a vederci anche Forbes, le previsioni di Forbes, che è un grande portale molto autorevole, ancora una volta Generative AI è ovunque, quindi anche qui loro parlano di nuovo dell'intelligenza artificiale appunto nella sua applicazione di generazione di testi, contenuti, video, immagini, ma vedremo in un altro video come questo impatto sulla percezione delle persone soprattutto sui social come viene come viene percepito il contenuto creato dalla AI quindi però tendendo a Forbes anche loro una volta parlano anche loro di come la AI viene sempre più integrata nella customer experience nell'esperienza del cliente sia anche per le protezioni interne dell'azienda loro ci fanno notare che invece anche le soft skills e il tocco umano verranno sempre più valorizzate perché in tutto questo spandersi di cyborg di intelligenza artificiale rimane comunque critica rimane importante la capacità di capacità più umane ad esempio l'intelligenza emotiva la comunicazione il problem solving anche loro ci parlano di sustainable business quindi di grandi investimenti nelle campagne sostenibili sulla sostenibilità grande sensibilità dei consumatori alla sostenibilità attenzione al greenwashing quello che dicevo prima ovvero fare finte far finta di essere sostenibili con il proprio business quando in realtà non è così perché i consumatori sono sempre più attenti vi sgamano subito non fatelo ancora una volta come visto precedentemente ha un fortissimo impatto sui risultati di un business il valore la qualità dell'esperienza del cliente impatta moltissimo sul business quindi ogni interazione ogni esperienza che fa il cliente con quel brand con quel business conta è importante quindi occhio all'esperienza del cliente e anche al customer care quindi al servizio clienti ok quindi diversity inclusivity diversità inclusività sarà interessante vedere come le tecnologie AI interagiranno con questo tema perché una AI non ha il senso dell'inclusività non ha questa sensibilità quindi bisognerà stare attenti che l'umano che controlla che comanda per ora poi magari un giorno saranno le macchine a comandare gli umani ma per ora non è così gli umani che comandano queste AI generative magari dovranno stare attenti che i risultati siano inclusivi e notte alla resilienza come abbiamo visto prima essendo che siamo in un periodo di grande incertezza sarà importante essere flessibili sarà importante avere la capacità di reinventarsi di prendere decisioni di cambiamento anche rapide e repentine voglio far vedere anche questo articolo di Marketing Brew un altro portale che mi piace molto che consulto molto spesso che va leggermente in controtendenza perché se da una parte conferma le tendenze relative all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e anche alla salvaguardia della privacy della gestione dei dati secondo loro invece le politiche riguardo la sostenibilità dell'impresa saranno in decrescita perché appunto secondo loro ci sarà una tendenza invece ad essere più pratici soprattutto nelle grandi aziende nei grandi brand perché appunto secondo loro nel 2024 i consumatori saranno sempre più divisi non ci saranno più pensieri unici passatemi il termine ma vista la questione della guerra e viste le elezioni americane che ci saranno quest'anno diciamo attuare delle politiche di brand fortemente legate ad un tema sociale potrebbe essere controproducente appunto perché buona parte della popolazione buona parte dei clienti invece potrebbero essere contrarie a quel tipo di politiche quindi secondo questo studio quindi vi faccio vedere anche questo è interessante la maggior parte dei direttori del marketing invece si focalizzerà su investire risorse su campagne di marketing che loro pensano portare a casa risultati pratici concreti e molto meno su campagne più di lungo termine che magari hanno a che fare appunto con la sensibilizzazione sulla sostenibilità eccetera secondo questo report 9 su 10 brand mainstream degli Stati Uniti tacceranno sulle questioni sociali e ambientali e invece faranno più appunto investimenti su cose concrete su cose più pratiche a meno che tu non abbia un brand che è totalmente definito dalle sue politiche sociali dalle sue idee sociali non ti conviene investire appunto in questo tipo di marketing di comunicazione scegliete voi un po' cosa fare io vi faccio vedere un po' i vari punti di vista ok poi anche loro qui parlano come se non si fosse capito dell'intelligenza artificiale di quanto sarà importante e anche di come verranno trattati i dati i dati sensibili che anche qui ancora una volta le persone sono sempre più sensibili a questo tema ultimo ma non ultimo vi faccio vedere le tendenze secondo Pinterest Pinterest è un bellissimo portale perché oltre a avere funzionalità tipiche di uno social network anche un motore di ricerca interno simile a Google infatti Pinterest viene utilizzato dalle persone per trovare nuove idee nuove fonti di ispirazione e quindi dalle ricerche che vengono fatte dagli utenti su Pinterest possiamo ricavare le tendenze e fare anche delle previsioni su 2024 in tutti gli anni riguardo il report di Pinterest che è veramente veramente interessante soprattutto per quanto riguarda settori ad alto livello di design infatti sono quasi tutti consigli di design un po' in ambito bellezza torna di moda il colore blu quindi ad esempio sono aumentate nel 260% le ricerche per unghie blu divertenti tornano in auge le creme solari le lozioni solari anzi le creme di bellezza e dopo le 24 il colore del corpo diventerà una cosa seria soprattutto per boomers generazione Z vi faccio vedere sono aumentate del 1025% le ricerche per rituale cura della pelle del corpo quindi non so avete un salone di bellezza avete un e-commerce considerate di puntare forte sulle creme di bellezza e sul colore blu nel caso siate nel settore della moda dell'estetica sempre parlando di estetica di moda acconciature vaporose grandi trecce gioielli scultore e orecchini a cerco oversize quindi la grandezza la fa da padrone celebrazioni nelle celebrazioni ad esempio per i matrimoni quindi se siete un wedding planner o preoccupate di eventi torna di moda la stile anni 70 come vedremo quello del retro è un tema ricorrente per quanto riguarda i trend nel design musica ritmo di jazz nel 2024 i ritmi elettronici dovranno farsi da parte per il grande revival dell'atmosfera retro quindi bar luci soffuse outfit da jazz club molto figo mi piace per quanto riguarda la moda pinterest è veramente un'ottima risorsa per intercertare le mode le mode della moda i fiocchi vanno di moda i fiocchi outfit con fiocco di qualsiasi dimensione sarà in voga tra mille nelle generazioni Z ancora una volta torna allo stile retro lo stile vintage dal manuale riceverà un tocco eclettico dalla generazione Z cardigan o style pantaloni in velluto per quanto riguarda invece il settore food and beverage cibo e bevande va molto di moda mischiare cose diverse soprattutto prendere due piatti diversi ed unirli vediamo infatti alcuni esempi pizza pot pie non so cosa sia sono aumentato le ricerche spedini di caramelle ramen carbonara lascio ci dedicare a voi tacos hamburger chesadigli hamburger se siete nel settore food and beverage o ci volete entrare una cosa quindi buona da provare anche questo a proporre dei piatti innovativi nuovi che miscolino siano un mix di altri piatti richiami tropicali ambienti e suggestioni esotiche sia nell'home decor che a tavola quindi ancora una volta se siete nel settore food and beverage provate a proporre piatti tropicali ovviamente se sono in linea con la vostra offerta anche cocktail tropicali sapori tropicali servizi finanziari molto interessanti perché ci vuole design anche quando si parla di soldi tornano di moda i salvadanai a forma di maialino salvadanai tenerissimi a forma di risacchiotto maialino ma anche le carte di credito saranno estrose con adesivi colorati e motivi ironici non l'avrei mai detto ma sono aumentate il 140% delle ricerche per adesivi per carte di credito interessante passiamo a lifestyle hobby e interessi fa di moda il badminton questo sport di cui non so molto però anche l'outfit da badminton padel sembra che stia passando un po' di moda appunto a favore del badminton medusa style forma e colore e l'aspetto etereo della medusa si impongono nel 2024 generazione z millennia straggono ispirazione dalla medusa e l'estetica che ne deriva ha un fascino particolare avventata del 615% le ricerche per taglio capelli a medusa avete un salone di parrucchieri introducete anche il taglio a medusa nel vostro listino a prezzi riciclo creativo ne stavamo parlando prima infatti lo confermo anche Pinterest si farà gara per recuperare i recuperabili sempre in coda al discorso della sostenibilità quindi provate a implementare nel vostro negozio magari anche prodotti fatti con materiale di riciclo provate a fare delle politiche appunto in cui ritirate i prodotti magari vecchi dei vostri clienti in cambio magari di un premio di un buono provate a pensarci provate a vedere cosa si può fare fai da te con scarti di legno questa ricerca aumentata nel 1220% questo vale anche nel settore food molte persone infatti riciclano gli avanzi non si butta via niente insomma e per quanto riguarda invece lo sport energia e movimento vanno di moda il karate kickboxing e jiu jitsu movimenti energici per sfogare lo stress cosa interessante perché negli anni precedenti invece era un po' diverso andavano di moda molto questi saloni di massaggi centri olistici rilassanti invece adesso pare che generazione z e millennas i più giovani preferiscono sfogare la rabbia appunto picchiando forte con karate e jiu jitsu tornano di moda gli acquari acquari piccoli grandi terrarie per tartarughe idea tema acquario questa ricerca è cresciuta del 410% design acquario piccolo 245% casa per la terza volta vintage vintage elettrometrici dal design retro come sapete le mode sono cicliche e quindi sta tornando di moda il sapore retro la generazione z e millenians daranno un tocco più personale di spazio alla casa sono aumentate le ricerche tipo cucina eccentrica 160% quindi anche stile kitsch un altro stile di moda è quello western gotico ovvero un mixo di stile western e gotico per arredare la vostra casa molto interessante ma nel caso fosse nel settore dell'arredamento potreste anche sperimentare delle nuove offerte appunto con questo stile o con lo stile retro caffè mania quindi si cerca di decorare anche di valorizzare da un punto di vista del design il luogo dove si fa il caffè infatti la ricerca idee stile caffetteria è aumentata nel 1125% nel corso dell'anno estetica caffetteria 820% in particolare vanno a dimostrare lavagne da gesso ma un altro trend per quanto riguarda il design della casa soprattutto fra i più giovani è anche quello della tonalità metalliche audaci tipo nail art metallizzata anche questa è una cosa che potreste provare ad offrire se vi occupate di arredamento per quanto riguarda l'essere genitori c'è la tendenza a celebrare i traguardi dei piccoli dal primo dentino al passaggio dal pannolino al vasino quindi tendenza a celebrare se siete nel settore dei prodotti per bambini per genitori provate a implementare idee per festeggiare ad esempio idee a festa fino a uno scolastico più del 90% anche se siete nel settore della cartoleria magari vedete biglietti viaggi due tendenze apparentemente in contrasto fra loro c'è la tendenza a vacanze slow località tranquille con ritmo all'insieme del riposo ozio infatti viaggiare in solitaria anche questo è interessante aumentato del 145% vivere lentamente ma d'altra parte c'è anche la tendenza ad avventure off-road cioè persone che saltano soprattutto gen Z ma anche boomers attenzione saltano in jeep esplorando il mondo su sterrati di montagna ovunque c'è polvere e fango attrezzatura overlang 110% tenetene conto se siete nel settore del turismo infine benessere nuovi spunti di conversazione domande profonde che diano maggior spessore al legame di coppia e all'amicizia quindi mostrarsi vulnerabili sarà un punto di forza questo è una tendenza soprattutto fra gen Z e millennials fra i più giovani domande per coppia per riavvicinarsi più 480% domande scottanti più 825% quindi queste erano tutte le principali tendenze di mercato per il 2024 tutte le previsioni io spero che questo video vi sia piaciuto e vi invito anche a vedere l'altro video in cui vi espongo le principali tendenze per quanto riguarda l'utilizzo di social network del 2024 grazie per la visione e ci vediamo ad un prossimo video e ci vediamo